Allora ragazzi, oggi mi trovo a Tuscania e questo colombario rupestre è molto interessante. Ce n'è un altro accanto a breve distanza che pubblicherò prossimamente, però intanto vediamo questo che a me ha colpito davvero molto. Allora, questo è conosciuto innanzitutto per essere un colombario crollato, infatti soprattutto all'ingresso, al nostro ingresso, sono evidenti delle situazioni di franate. Però entrando, paradossalmente devo dire che l'ambiente si presenta ugualmente molto accogliente. Ecco, nonostante queste nicchie spezzate che sono tipiche nei colombari, che noi vediamo. Per quanto riguarda le nicchie integre, sono nicchie che non hanno una forma netta, cioè non hanno uno stile ben definito. Infatti si presentano tutte dalle forme molto morbide e abbozzate. Quindi abbiamo quadrati non quadrati, pentagoni non pentagoni, eccole vediamo in quadrate qua.